Buongiorno, sono Giampaolo dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia. Oggi vi presento questa ottima Alfa Romeo Giulietta in versione Distinctive, 1.6 multijet 120 cavalli, immatricolata nell'anno 2014 con 122.000 km percorsi e cinghia sostituita a 109.000 km. Questa Giulietta si presenta in un bellissimo color blu metallizzato, monta ruote in lega 18 pollici a turbina. Lo stato generale è veramente ottimo. Vi mostro gli interni. Sono sedili sportivi in tessuto bicolore, volante multifunzione, c'è anche il cruise control, eccolo lì. Ecco i 122.000 km percorsi, radio CD MP3 touchscreen, clima automatico B-Zona, porta USB, sistema DNA, cambio meccanico 6 rapporti. Vi mostro il sedile posteriore, anch'esso in ottimo stato. Questa vettura è disponibile in pronta consegna, viene venduta con 12 mesi di garanzia legale di conformità. Vi aspetto Gussago presso il nostro autosalone Pasolini Auto per vederla, provarla ed eventualmente acquistarla. Grazie.